amici di videovarese se siete curiosi di capire che cosa vede un nuotatore mentre nuota in un lago splendido il lago di monate è l'occasione giusta fermatevi in paio di minuti a gustarvi questo splendido filmato un'occasione giusta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.